Film, musica, programmi TV on demand, gratis sul proprio tablet o PC. È il nuovo servizio offerto da Air Transat sui suoi voli per il Canada. L'offerta sarà disponibile subito dopo il decollo tramite la rete Wi-Fi a bordo e si aggiunge alla possibilità già presente di fruire dei contenuti di intrattenimento individuale durante il volo tramite il touchscreen posizionato sull'aeromobili.